ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato a una disquisizione caotica eccoci qua con un'altra puntata dedicata alle disquisizioni caotiche cosa sono? sono delle puntate che in teoria dovrebbero essere corte con un minutaggio contenuto ma a volte sforano mi lascio prendere la mano e vado avanti nella quale voglio disquisire dipanando un certo argomento un determinato soggetto che mi viene a volte chiesto oppure che mi sento di voler esternare per chiarire la mia posizione in questo caso l'ho già fatto diverse volte ma spero di ribadire la mia posizione senza offendere nessuno perché ci sono i partiti del pro spring drive e i partiti del contro spring drive e poi nessuno ha ragione e nessuno ha torto perché le motivazioni possono anche essere personali tranne quelle che poi sono veramente oggettive dalle quali non si può fuggire ora prima di entrare nel vivo del discorso vi mostro il mio orologio del giorno che è un parente lontanissimo cioè il seiko skx orologio diciamo emblematico di un certo tipo di orologi da immersione con la sua cassa da 42 mm la sua ghiera pepsi la sua bella ghiera pepsi è un orologino che mi piace veramente economico entry level ma ha il suo perché ora entriamo un attimino nell'argomento dello spring drive perché io non amo lo spring drive lo dico subito perché io lo considero una complicatissima evoluzione del quarzo semplicemente per questo motivo a meglio orologi a quarzo non mi interessano tanto più se costano così tanto sgombriamo il campo diciamo che è una tecnologia esclusiva di seiko che ha impiegato 22 anni per svilupparla con numerosi prototipi studi eccetera eccetera e rappresenta anche diciamo il non plus ultra di un certo tipo di tecnologia no è veramente un bel meccanismo cioè detta così è proprio un calibro che ha il suo perché semplicemente a me non mi va e ve lo spiego subito come funziona lo spring drive cerchiamo di dirlo in soldoni praticamente c'è un rotore che carica una molla meccanica la quale ha il compito di sprigionare l'energia per far muovere un treno di ruote esattamente come in un orologio meccanico però poi non c'è il bilanciere cioè c'è una ruota di scorrimento che gira velocissima questa ruota di scorrimento deve essere frenata in modo da poter poi comandare le lancette e il tempo lo scorrere del tempo e chi è che la frena la frena un circuito integrato che prende il punto di riferimento da un cristallo al quarzo ecco fatto è un orologio nel quale gran parte del meccanismo è meccanico manca lo scappamento e manca il bilanciere quindi io lo considero esattamente un orologio al quarzo perché il punto di riferimento è un cristallo al quarzo questo principio di frenare la ruota di scorrimento è semplicemente come diceva l'ingegnere che poi l'ha progettato mandare una bicicletta in discesa e cercare di mantenere la velocità costante cercando di frenarla quando si deve no costante e qua uguale la ruota di scorrimento girerebbe velocissima e c'è un cristallo al quarzo con un magnete che la comanda e la questo che non c'è una batteria non c'è una batteria che comanda il cristallo al quarzo tutta l'energia elettrica viene sviluppata meccanicamente però è si tratta sempre di energia elettrica e il punto forte è che se ha bisogno di un quantitativo di energia talmente basso consuma talmente poco che è sufficiente tutto l'ambaradano meccanico per mandare avanti il cristallo al quarzo e circuito integrato però c'è sempre un circuito integrato c'è sempre un cristallo al quarzo ora io vi voglio fare presente che il fulcro di un orologio come fa un orologio a restituirci il tempo a segnare l'ora come fa come un qualsiasi orologio ha bisogno di un punto di riferimento e qual è il punto di riferimento allora vi vado a subito a prendere una frequenza una frequenza il punto di riferimento è una frequenza nel senso che tutto quello che c'è guarda questa frequenza e tramite questo riferimento poi ti dice l'ora ci vuole qualcosa che oscilla ora vi vado a leggere degli statement delle frasi che sono sicuramente vere per le quali non c'è nulla da eccepire no allora nell'orologio atomico la base del tempo è determinata dalla frequenza di risonanza di un atomo quindi l'orologio atomico è il più preciso del mondo perché frequenza altissima e soprattutto costante l'orologio atomico frequenza di risonanza di un atomo nell'orologio a pendolo la base del tempo è determinata dall'oscillazione del pendolo questa è la frequenza di riferimento l'oscillazione del pendolo nell'orologio al diapason la base del tempo è determinata dall'oscillazione del diapason ci sono questi diapason comandati elettricamente da una batteria oscilla il diapason e quello lì è il punto di riferimento del tempo nell'orologio meccanico la base del tempo è determinata dall'oscillazione del bilanciere meccanico in un orologio completamente meccanico c'è il bilanciere che oscilla e quello è il punto di riferimento del tempo nell'orologio a quarzo la base del tempo è determinata dall'oscillazione di un cristallo di quarzo nello spring drive la base del tempo è determinata dall'oscillazione di un cristallo di quarzo questo è l'unico caso nel quale la base del tempo è identica per entrambi cioè l'orologio al quarzo e lo spring drive hanno entrambi un quarto all'interno che determina che è il cuore dell'orologio quindi io a ragion veduta a logica considero lo spring drive un quarto un'evoluzione veramente complicata complessa che ha senso di esistere di un quarto quindi non me ne vogliate ma io lo considero in questi termini poi non venitemi a dire no ma i gran seico sono degli orologi stupendi certo che sono orologi stupendi lo vorrei anch'io un gran seico ma io vorrei il gran seico con il calibro 36.000 alternanze completamente meccanico gli involucrii i materiali le lavorazioni sono le stesse di uno spring drive quindi esternamente abbiamo quelle finiture eccezionali fatte anche a mano in determinati casi con all'interno un calibro meccanico che viaggia a 36.000 alternanze orarie questo per me è gran seico lo spring drive a me non piace a me non piace per i motivi che vi ho appena detto poi vi voglio anche dire che ognuno scelga di comprare di indossare di tifare per ciò che meglio crede però è inconfutabile che essendoci all'interno un quarzo è un parente stretto degli orologi al quarzo boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto questo piccolo pillolo di video questa disquisizione caotica e se non vi è piaciuta ce ne faremo una ragione lasciate che qua sotto i vostri commenti su cosa ne pensate se apriamo una discussione guardiamo se sono più i detrattori che poi io non sono un detrattore lo apprezzo ma non fa per me dai mi resta che ricordarvi gli appuntamenti fisici che quindi sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube lave Grazie per la visione! Grazie a tutti.